Come in ogni accademia che si fetti, anche qui indosserete delle vise. Non vedo l'ora di scoprare i... Bocca al luogo. Pietro scopasotto, Elisa truffa anche Pietro. Ti fa rendere conto di essere riuscito a scoprare ma io sono... Riesce a risaltare un po' le mie forme. Francesco Petito, grazie. Questo non è un arrivo ma bensì un punto d'arrivo. Giorgio. Benvenuti a tutti. Ho scelto il coglione. Tutti questi scarti qua, li metto da te. Prendo Salas, Rosemary e Simone. La parte interna del coglione. Mettiamo la tetta e vado a volge. Truffelli, vieni tu. Un po' bruttina la presentazione, eh? Se non mi ha schiacciato a terra. Mi dispiace ma il tuo voto è 4. Ok. Che c'è se zvemento? No. Anche.